Dobride in eccellenza, la sua città Kharkiv ha pagato un terribile tributo di sangue con la guerra fin dall'inizio. Basti pensare all'attacco del maggio scorso nel centro commerciale e anche in queste ore, anche se non proprio a Kharkiv, vi è stato un bombardamento che ha seminato morte in una caserma. Ora oltretutto siete anche sulla linea del fronte del contrattacco ucraino. Com'è oggi la situazione? Molti famiglie giovani hanno lasciato, hanno scappato dalla nostra città. Molti scappano all'estero, a Polonia, specialmente molti in Italia. Vorrei ringraziare tutta l'Italia, tutta la nostra chiesa che voi avete fatto questo aiuto alla nostra chiesa, a noi, che voi sostengono le nostre famiglie e aiutano noi in Ucraina, aiutano le nostre famiglie in Ucraina e in Italia. Nel fine del maggio l'Armia Russia ha bombardato il centro commerciale in Kharkiv. Era sabato, dopo pomeriggio, ci sono molte famiglie lì. Tra loro sono una famiglia molto vicina alla nostra chiesa, famiglia Meroninko, mamma Irena e figlia Maria. Nel questo giorno questa piccola bimba ha superato il suo esame di canti e loro hanno festeggiato un po' e hanno deciso di andare in questo centro commerciale. Questa famiglia è stata molto attiva nella nostra parrocchia. Maria c'era in questa gruppa chi doveva venire qua in Italia per questo campo estivo in Como, questa opportunità. Ma purtroppo è morta lei e lei mamma e questa è una cosa tragica. Cosa possono fare la chiesa e i cristiani per arginare la guerra e favorire la pace? Penso che più importante è avere questa faccia di Cristo, faccia di solidarietà, delle misericordie, perché noi siamo portatrici di Cristo, cioè portatrici di pace. Russi devono lasciare la nostra terra, solo questo significa pace giusto. Non posso dire questo è possibile o no. A noi come cristiani possiamo solo pregare Dio perché Dio è Dio giusto e Lui fa tutta la giustizia e speriamo che Lui farà giustizia che non sono a cielo, ai cieli, ma anche qua sulla terra. Lei crede che vi sia spazio per una trattativa diplomatica? Come non si stanca di chiedere Papa Francesco o si andrà ad oltranza avanti con la guerra? È ottimista o pessimista? Papa anche dà molto aiuto umanitario per l'Ucraina. Penso che una delle cose più importanti e Papa aiuta noi a liberare i nostri bambini che sono stati presi da Russia. Lui vuole pace e l'Ucraina dice che anche noi vogliamo pace, ma pace giusto. Noi ogni giorno preghiamo alla maestra e preghiamo a voi per fare questo insieme, per pregare Dio misericordioso perché solo Lui può fermare questa terribile guerra. Il 26 giugno scorso una trentina di ragazzi ucraini sono stati qui, proprio in Arcivescovado, dopo aver visitato il Duomo e hanno dialogato con l'Arcivescovo. Cosa può fare la chiesa ambrosiana per la vostra chiesa ucraina? Penso che è molto importante avere un luogo sicuro per i bambini. Passare il tempo qua in Italia, questa era un'esperienza molto positiva per ottenere questa gioia che deve ottenere ogni bambino. Questi bambini che sono tornati da qua mi hanno detto che vogliono imparare lingua italiana nella nostra piccola scuola e io ho venuto qua per ringraziare voi tutti in Italia. Diaco, io, eccellenza. Grazie, eccellenza. Grazie.